Bentornati su MyFootballJersey. Questa che vedete l'avrete riconosciuta sicuramente, è una maglia del City, ma quale? È l'anticipazione di quella che dovrebbe essere la maglia, in base a quello che poi è trappelato, per la prossima stagione, la 2024-2025, la maglia di casa in edizione Player. Grazie per la visione! La maglia ovviamente rispecchia i colori della tradizione del City, la maglia di casa quindi non poteva discostarsi di tanto. Non male questa righina, devo dire che non è stato fatto uno sport, però esagerato. Comunque la maglia di una squadra grandissima, con dei grandissimi giocatori, tra cui Haaland ha la maglia che tutto sommato dovreste mettere, secondo me, nel vostro lavoro. il costo, l'avete visto, basso, i tempi di spedizione molto buoni, considerando comunque il costo, questa arriva in 22 giorni. Devo dire che mi ha sorpreso molto la qualità, trovate tutti i riferimenti in descrizione, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ora vi lascio al parte finale e vi saluto. Ciao!